Il Presidente del Consiglio regionale di Pangrazio si era impegnato fin dall'inizio del suo mandato e ha molto caldeggiato una legge regionale sull'editoria, che però ancora non vede la luce. Quali sono i problemi? Non ci sono problemi. Io ricordo di aver presentato la legge, averla concordata con l'Ordine dei giornalisti, poi ho fatto un passaggio successivo con il sindacato dei giornalisti regionali, legge depositata. Ricordo solo che esponenti del Movimento 5 Stelle si schierarono contro in Commissione, con un voto contrario. È pur vero che noi abbiamo la maggioranza, ma lì si cercava la condivisione perché è una legge che riguarda tutti, non riguarda una parte istituzionale della nostra regione, ma riguarda tutte le rappresentanti istituzionali. Mettemmo un'economia, mi pare, di circa 100.000 euro, 90.000 euro con i risparmi del Consiglio regionale, ci fu questa forte opposizione, da lì si produsse un'altra legge che in sostanza bloccò un po' l'iter della prima presentata da parte dell'ufficio di Presidenza. Io sono stato sempre un assertore che l'informazione nella nostra regione va garantita, va sostenuta, va soprattutto supportata, perché mi rendo conto quando sia difficile fare il giornalista, ma soprattutto mi rendo conto quanto è difficile per i piccoli editori e quelli anche un po' più grandi sostenere i costi per garantire occupazione e informazione plurale. Il mio impegno è stato un impegno serio, fatto per bene, regolare, ma soprattutto all'insegna della lealtà. Probabilmente altri consiglieri pensavano che quella fosse una legge che serviva a qualcuno, non hanno capito che era una legge che garantiva soprattutto il sostegno ai giornalisti, li regolamentava ma garantiva anche il sostegno alle piccole testate giornalistiche e ai piccoli editori.